Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste spagnole. Il locale servizio di soccorso marittimo comunica di aver salvato 471 migranti e recuperato 4 cadaveri da 57 imbarcazioni che cercavano di arrivare dall'Africa via mare. Alle operazioni avvenute nello stretto di Gibraltar hanno partecipato 9 navi, un elicottero e un aereo dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. La persistente nebbia ha complicato non poco il lavoro dei soccorritori per localizzare altre tre barche nel mare di Alboran, a est dello stretto. Le Nazioni Unite riferiscono di circa 800 migranti morti quest'anno nel tentativo di arrivare in Europa via mare.